Mobilitare l'intero sistema associativo con eventi locali per promuovere e rafforzare la cultura della legalità, requisito fondamentale per la crescita e lo sviluppo. E questo è l'obiettivo della giornata della legalità, un appuntamento annuale contro ogni forma di illegalità e contro tutti i fenomeni criminali che rappresentano un grave danno per l'economia reale. L'evento svolto questa mattina ha visto l'adesione di Confcommercio Lecce nel corso della giornata, la presentazione di un'indagine che analizza l'evoluzione dei fenomeni criminali con la crisi e ne dà una lettura aggiornata su scala nazionale e regionale. Erano presenti le maggiori autorità politiche e istituzionali del territorio come il procuratore capo della Repubblica di Lecce, Cataldo Motta, e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Vincenzo Dirella.